Senza dubbio un grande successo organizzativo e di appassionati. La seconda edizione del Tennis Tour I Love Abruzzo è partita con le gare internazionali femminili. In questa settimana di agosto è toccato invece agli uomini scendere in campo per gli internazionali maschili. Venerdì la finalissima del doppio sabato 3 settembre, la finalissima del singolo e l'ultima tappa del circuito I Love Abruzzo. Scenario dell'evento sportivo, il circolo tennis Prati 37 a Pescara. Il direttore e Deus ex macchina del torneo Luca Del Federico. Abbiamo il 15 mila dollari maschile ETF che è l'ultima tappa del Tennis Tour I Love Abruzzo 2022 con tanti giocatori, diciamo un piccolo challenger perché abbiamo giocatori del calibro di Stefano Napolitano, Giuliano Cleppo, Simone Roncalli, l'argentino Teguitas è seria numero uno e quindi ancora tanto bel tennis qui a Pescara a Prati 37. Abbiamo anticipato la finale al sabato, quindi sabato 3 settembre alle 5 del pomeriggio la finale singolare, mentre il venerdì pomeriggio avremo la finale di doppio e le due semifinali. Grazie. Grazie.